Questo fine settimana ci sarà la Green Week a Trento, di cui FBK è coorganizzatore. Il 3 marzo, in particolare venerdì alle ore 15, si terrà una sessione di presentazione della mobilità con i combustibili alternativi e in particolare l'idrogeno, rispetto alla quale i Paesi membri hanno risposto alla Commissione europea su una direttiva specifica, preparando piani strategici nazionali. Con l'unità Ares, coorganizzatrice dell'evento, l'unità sui sistemi energetici, intendiamo discutere quanto è stato fatto in ambito nazionale, quanto è il gap ancora presente sulla normativa e dare un chiaro messaggio che l'idrogeno è oggi ed è ora.